bella a tutti ragazzi sono Ag Tormi e in questo video parleremo dei consigli per il fantacalcio iniziamo dai portieri io personalmente ho scelto Buffon come portieri perché è sempre il portiere per eccellenza perché nella Juve che si dimostra sempre la più forte credo che sia il migliore poi potete prendere come secondo portiere Neto perché è il secondo della Juve quindi mi comparrebbe poi c'è Andanovic, Padelli, Consigli che sono ottimi portieri pure Bizzarri che è andata alla Sampdoria e poi posso dirvi delle rivelazioni secondo me degli azzardi piazza della Juve è fortissima vi consiglio di prenderlo se riuscirà ad esplodere poi dei difensori vi consiglio quelli della Juve Barzagli, Bonucci e Chiellini uno tra questi tre e poi prendere Toloi, Toloi solo che è assente adesso però è un grande giocatore ha anche tanti gol e Zucanovic dell'Atalanta, Abate poi Dani Alves non ve lo consiglio perché ora sta giocando ma la Lega lo sarà più per la Champions quindi in campionato di giocare a Leksteiner e poi non lo so per Alessandro può essere è molto difficile ricordando che ora ci ha fatto perdere un troppo io e poi dei centrocampisti Marchesi non c'è quindi non ve lo che vi dico non lo so se prenderlo e poi Pjanic secondo me esploderà un altro poco l'Eminano non lo so è molto difficile però Nangolan è una certezza io ho preso Nangolan e Strattman della Roma poi all'Anne del Napoli un ottimo acquisto poi c'è anche Giocev del Palermo che costa molto poco ed è un titolare e poi vi consiglio di chiudere con Florenzi e Candreva e poi possiamo gli attaccanti il mio inamovibile attaccante è Dybala perché è troppo forte Paolo Dybala ve lo consiglio assolutamente e poi ho Dybala o Buck come primo attaccante poi uno più vi consiglio di prendere anche Budimir della Sampdoria e il Ciarawi è un attaccante e Kalinic che non si sa se andrà al Napoli all'inizio io pensavo per Gabbiadini ma invece ora probabilmente se ne andrà e allora bella ragazzi spero vi sia piaciuto questo video mettete like ciao